Il mio sacrificio veniva visto come un sacrificio inferiore rispetto a quello degli altri, perché tanto avevo un'altra carriera e avrei avuto comunque un piano B, cosa che invece per me era il contrario, cioè io per venire agli allenamenti rinuncio alla vacanza a Dubai, di qua, di là, di su, di giù, con piacere, perché comunque quello per me è la priorità, ma anche il sacrificio della mia famiglia, che appunto nei momenti dove c'era mio padre io non c'ero ed ero via. Signori e signore, buonasera. Altra puntata in serale. Ti piacciono queste puntate in serale? Moltissimo, le sto cominciando ad apprezzare molto di più rispetto a quelle di urne. Bell'ospite oggi, ora le camere arriveranno su di lei perché oggi è quota rosa e la dobbiamo ringraziare per due motivi, uno perché nel frastuono del salone del mobile è arrivata qui e due perché domani mattina ha un aereo alle quattro e mezza. Quindi guerrierà due volte. Assolutamente, ora capirete il perché. L'ospite di oggi porta un cognome importante, sicuramente molto molto conosciuto, soprattutto fra le femminucce e le donne. Un brand di scarpe tra i più lussuosi e desiderati anche dalle star mondiali. Oggi, a capo di un'azienda voluta dai suoi nonni e cresciuta soprattutto grazie alla visione stilistica del mitico papà, di cui parleremo. Ale, a te. Diamo il benvenuto a Arianna Casadei, la general manager di Casadei. Ragazzi, grazie per la presentazione molto lusinghiera. Spero di essere all'altezza di una presentazione del genere. Ci siamo, ci siamo. Grazie di essere qua. Piacere. Allora, ricomincio io, poi si lega. Vada, vada. Si lega Ale. Cognome importante. Ci piacerebbe ripercorrere e far ascoltare a tutti coloro che ci ascoltano e ci guardano, a grandi linee, ripercorrere più o meno come è nata l'azienda, che se non sbaglio è datata 1958. Corretto. A te. Guarda, parto dal sogno, dal fatto che per me, diciamo, nel mio personale, se io penso a quello che è l'immagine dell'amore, è sicuramente l'immagine dei miei nonni insieme, che appunto verso la fine degli anni 50 hanno deciso di intraprendere questa bella avventura. Parte comunque da due individui che avevano dei sogni e delle prospettive molto diverse, perché oggi parliamo comunque di quella che è una realtà internazionale, però dobbiamo calarci in quella che è una realtà di fine anni 50, dove mio nonno veniva da una realtà comunque dove coltivavano la terra e quindi quando lui ha detto che voleva fare il ciabattino, al tempo il mestiere era quello del ciabattino, l'ho preso un po' per pazzo. Invece mia nonna, che lavorava già presso delle giunterie, gli diede quello sprint che solo le donne sanno dare. Mio nonno ha sempre detto, io se oggi sono quello che sono e ho creato, ho avuto la forza di creare quello che ho creato, è stato perché avevo tua nonna che mi ha spinto e credeva tantissimo in questo progetto, tanto quanto me. Quindi nasce, diciamo, questo concetto di laboratorio artigianale, ovviamente legato a quelli che erano i turisti della riviera. Quindi, logicamente, le donne che venivano a fare poi il, diciamo, summer break, chiamiamolo così, visto che non era... Era l'unica azienda? No, c'è questa foto molto bella che io infatti ho dato a Vogue Italia, che è uscita l'anno scorso ad agosto, di mio nonno, Sargio Rossi, Vittorio Pollini, tutta una serie di altri imprenditori, sempre del mondo della calzatura, corretto. Su questo via l'alberato di San Mauro e sembrano... è presente il film Le Iene? Cioè, questa foto in bianco e nero, di loro vestiti di tutto punto, in mezzo alla campagna, ed è molto sintomatica ed espressiva, emblematica di quello che era proprio un dualismo che segnava un po' il mondo della riviera, nightlife, tutto quello che era un concetto di benessere, del boom economico, ma legato comunque alle radici, alla terra, a quelle che sono delle tradizioni di famiglia unita. Tant'è vero che, insomma, non siamo gli unici a raccontare questa storia, ma a me tocca nello specifico. E quindi, inizialmente, quando loro venivano, quando appunto arrivavano queste turiste in riviera d'estate, c'era demand di sandali e stivi. Piano piano hanno iniziato a vedere quello che adesso, tramite una dashboard, riesce a tirare fuori, no? I primi data analytics, che c'era richiesta demand negli stessi paesi di origine di queste donne, quindi tendenzialmente nord-europee. E allora hanno iniziato, come pionieri, ad andare, non è come adesso appunto il volo alle quattro e mezzo di mattina, no, ci si doveva organizzare per fare un viaggio un po' più lungo in nord-Europa. Che durava giorni. Sì, assolutamente, poi a volte partivi, cioè, partire con l'aereo era quando ti capitava veramente l'occasione, sennò prendevi la macchina e facevi tutta una serie di percorsi. Certo, io ho questi racconti dei miei nonni, magnifici, tipo di storie mirabolanti di loro che partono in macchina e vanno nel sud della Francia perché devono prendere dei pizzi o dei capretti francesi che adesso non producono neanche più e quindi poi dopo la allungavano per fare altri giri appunto in nord-Europa, passando poi per il Belgio e per la Germania e tornando indietro. Tutto Ale con le cartine. Sì, sì, non avevi l'iPhone. La difficoltà di girare e di trovare, perché non è che c'erano appunto Google Maps, andavi lì. Però la cosa molto fascinosa era immaginarmi loro in queste macchine comunque che non hanno tutti i conforti. Confortevolissime. Aria condizionata, no? Esattamente, esattamente. E quindi sono cresciuta un po' con questi racconti loro dei primi viaggi un po' come dei pionieri alla scoperta di quello che era il mercato nord-europeo e della richiesta del prodotto perché chiaramente quelli che erano i sandali estivi non andavano bene per la stagione invernale. Ed è cominciato tutto così. Fino a che poi ovviamente hanno, diciamo, ampliato quelle che erano le loro conoscenze di mercato anche con una parte di prodotto più capillare, eccetera, sulle varie stagionalità. e poi vengono i viaggi a Londra, in America, eccetera, eccetera. Ma dopo quanto loro hanno ampliato? Subito. Già dai primi anni sessanta. Ma perché hanno visto già una grande richiesta del prodotto? Sì, perché allora... È stato in... Cioè... È stato proprio... Cioè, il momento in cui tu hai un demand, il momento in cui hai il turista in riviera, è stato, diciamo, naturale per loro andarlo a ricercare in quelli che erano i paesi nord-europei. E poi di lì sono stati veramente, diciamo, era anche il periodo, no, gli anni sessanta dello sviluppo, del boom, Londra. Cioè, banalmente, quello che a me piace tanto è vedere, no, nelle decadi come si è evoluto il prodotto e contestualmente vedere le foto della mia famiglia che cresce e che cambia con quelle che sono le mode del momento. Quindi faccio per dire Londra. Tornavano da Londra, mia nonna era innamorata dei colori. Tu, Frank, sai quanto mio padre ami il colore. E quindi questo deriva proprio da lei. Tornava e magari faceva, tipo, andava al color pavone, faceva il completo uguale a mia zia e mio padre, ispirato a quello che avevano visto a Carnaby Street. Ok, quindi loro già da lì si ispiravano tantissimo. Iniziavano magari prendendo dei trend che poi diventavano, li rafforzavano, diventavano mode. Esattamente, esattamente. Ovviamente la capacità incredibile era proprio quella di tradurre artigianalmente il concetto moda nella scarpa. Tieni presente che questo è un modus operandi con cui sono stata cresciuta anch'io. Quindi è qualcosa che continua a creare, diciamo, è qualcosa che ti rimane. Stai sugli shoe floor? Cioè, quando io ero all'elementare, quindi viaggiavo con i miei, eccetera, mi dicevano Oh, che figo, vai a Dubai, che figo, vai di qua, di là. E la maggior parte delle volte io stavo... Dovevo ovviamente stare ferma, ascoltare quello che succedeva e tu guardavi quello che provavano le donne. Quindi vedevi, che ne so, la ragazza che si provava il tacco alto, il tacco basso. Ah, così guardavi il gusto e la richiesta, quello che... Sì, però la cosa bella è che tu adesso hai una dashboard che ti dà fuori il dato esatto di quante persone, diciamo, in quel momento stanno guardando quel display, quante persone stanno guardando... Sì, gli analytics, i banali analytics. Hanno magari provato o visualizzato un determinato articolo. Prima era molto più empirico. E quanto ti emozionava però prima? Ma rimane comunque questo concetto, nel senso che continuiamo anche ad oggi ad avere un approccio diretto perché comunque siamo una realtà sempre familiare dove continuiamo ad avere una presa diretta con quelli che sono i nostri store manager, eccetera. Quindi questo ci aiuta anche ad avere dei feedback sul prodotto nello sviluppo collezione su collezione. Poi diciamo che, ripeto, lo sviluppo è andato via via facendosi sempre più capillare. Mio padre è entrato a far parte dell'azienda. È stata abbastanza organica come cosa perché mio nonno gli ha detto tu che scarpa faresti per questa stagione? E mio padre fece una scarpa con uno stivale arlecchino con tutti quelli che erano un po' le rimanenze della stagione e finita la stagione aveva pulito tutto il magazzino. Quindi felicissimo. Ha detto questo lavoro lo faccio con un braccio dietro alla schiena. Stagione dopo gli ha detto dai fammene un'altra. È stato un buco nell'acqua, non hanno venduto niente. Quindi poi lì mio padre si è ovviamente agganciato mentalmente e ha detto no, adesso devo capire meglio come funziona. E quindi inizialmente ha avuto un approccio stilistico anche perché lui poi faceva la sua linea. E poi ha avuto tutta la parte di sviluppo commerciale della nostra azienda portandola a livello internazionale, aprendo nuovi mercati come ad esempio la Russia. e quindi diciamo tutta quella parte di sviluppo poi riprendendo le redini della direzione creativa e ad oggi appunto lavoriamo insieme tutti braccio a braccio. Però Ari, i nonni hanno iniziato. Poi c'è stato papà e ora ci sei tu. Papà parte da una direzione creativa ma poi prende la direzione dell'azienda o la direzione dell'azienda la lascia sempre al nonno e lui continua sulla via stilistica? Nella nostra direzione aziendale c'è comunque una parte molto legata alla produzione dove mio nonno era un mago. cioè fare la camminata lungo la manovia che tu hai visto era in grado, io ero con lui fianco a fianco e stavamo parlando del più del meno mi ha stoppato per dire no quel cinturino va un pochino più avanti un millimetro più avanti noi parliamo di centesimi di millimetro cioè per precisione quindi aveva, come per noi può essere un'estensione di un device digitale per lui era una pelle, un chiodo, un martello per darti l'idea e quindi la parte diciamo legata al management e produzione rimaneva a capo mio nonno ma era mio padre a prendere tutte quelle che erano decisioni stilistiche e commerciali. Se il nonno era così vuol dire che era un fenomeno perché non nasceva non era figlio d'arte per cui dici sai si era infarinato negli anni di fabbrica, di produzione lui lo è diventato praticamente. Io guarda ad oggi mio nonno è mancato a novembre però diciamo il più grande insegnamento che io ho di mio nonno è che per me è un po' il mio mantra quotidiano è che diciamo deriva da un'esperienza che ho avuto con lui direttamente dove mi ha fatto sedere nel suo ufficio che adesso è il mio avevo 15 anni e mi ha detto tu cosa vuoi fare nella tua vita? Mio nonno è sempre stato un pragmatico e a 15 anni ero incerta se lasciare il muoto la riviera di cui poi parleremo però a 15 anni anche un po' presto sì però tra il muoto poi io a liceo andavo a scuola fino al venerdì quindi per me il sacrificio era doppio perché io potevo uscire sia il venerdì che il sabato sera quindi diciamo che in quel momento le mie priorità erano altre e quindi lui mi ha detto una cosa mi ha detto guarda io ho la quinta elementare ma quello che per me è importante è che tu sappia quali sono i valori fondamentali e che ti circondi di persone di talento persone migliori di te perché in questo modo tu puoi crescere e far funzionare un'azienda perché ovviamente la mia paura era quella di dire guardo diciamo quello che è stato fatto prima di me da mio padre a mio nonno e tutta la mia famiglia è un paragone un pochettino pesante la realtà è bella dura esatto e quindi non ero sicura di volermi poi mettermi a confronto e quando lui mi ha detto il risultato dell'azienda non lo fa solo una persona ma la capacità di quella persona di attornarsi di persone migliori di loro lì ho iniziato a respirare in un po' maniera un po' più leggera un po' come la famosa cinque persone eh sì l'ha sgravata un po' dal peso perché chiaramente se ti diceva guarda su di te graverà tutto esclusivamente il peso ad Arianna le sarebbe risultato un po' più difficile è arrivato anche quello è arrivato anche quello sicuramente quando vi ho detto ricordati che l'azienda è sacrificio cioè viene prima l'azienda e poi tutto il resto perché è giusto che sia così e lì come l'hai presa? ma per me ripeto per me l'azienda è casa cioè ho la fortuna di vedere quando io ho preso questo ruolo internamente in azienda la prima cosa che ho detto è stata grazie grazie a tutti voi perché la mia storia non passa solamente diciamo per un DNA diretto ma letteralmente per le mani di tutte le persone che hanno lavorato dal 58 ad oggi perché per fare una scarpa ci vogliono 200 passaggi se non ci sono quelle mani esperte e consapevoli di quello che stanno facendo è come avere una sinfonia con degli strumenti diciamo non accordati sono a casa dei sono romagnola ma non sono dell'orchestra parlo solo di metafora allora io sono stato lì la sensazione è proprio quella che si respira di casa e bottega e c'è una è tutto molto armonioso poi ciò non significa che non ci sono pressioni non c'è stress assolutamente però loro già di indole la vivono diversamente l'azienda è piacevole cioè l'aria che si respira è molto piacevole sì lo stress ci sarà ma è uno stress sano alla fine lavoreranno a ritmi chiaramente c'è un periodo un po' più strong un po' alcuni meno però di base lo stress è stress per carità di Dio poi questi ultimi tre anni ci hanno insegnato tutto il contrario di tutto quindi sicuramente ci hanno messo alla prova esatto devi alzare l'asticella sempre di più però trovo che ripeto per me camminare che ne so lungo la mano via con una persona che ha conosciuto mia nonna che mi ferma mi dice giochi con quella collana come ci giocava tua nonna è un valore aggiunto che non è indecifrabile insomma la cosiddetta sea chain no? è il vostro marchio se vogliamo così chiamarlo però è anche un po' una conciunzione tra le vecchie e le future generazioni possiamo leggerla così? sì ha una bellissima storia nel senso che mio padre stava giocando con le sue iniziali no? la C Cesare Casadelli le due C e ha deciso di aggiungere quello che era un link che le dava un po' se lo guardi come dettaglio come emblema ricorda sia la catena del DNA sì e quindi qualcosa che ci lega direttamente al mondo delle scarpe sia le tre generazioni che eravamo al momento appunto del concepimento di questo grafismo ed è stato bello perché quando io appunto gli ho detto che ero incinta poi mi fa dal niente dopo che lo shock iniziale è passato allora dovremmo aggiungere un altro link poi nel frattempo vabbè c'è stata una sostituzione di generazioni però sì il concetto è quello me lo immaginavo per avere è molto romantico devo anche essere questo mio padre devo dire è un uomo molto romantico sì e quando sono stato lì io chiaramente conosco le scarpe da donna conosco i brand più iconici ma quando io sono andato via da lì Blade ce l'avevo qui perché è proprio un segno di riconoscimento per voi praticamente Blade Hill Taco Blade sì ok quindi ti dico io tuo papà parlava del Taco Blade scusate l'ho detto in inglese maledetto me maledetto me aveva questa questa sorta di è proprio un amore che ha verso il Blade forse perché è quello che ha segnato le sorti di un cambiamento dell'azienda o ci sono altri motivi allora partiamo dal presupposto che dico sempre la diciamo la mia posizione in classifica come figlia stagione dopo stagione cala sempre nonostante io sia premogenita nel senso che ogni stagione ha poi i suoi figli in maniera diversa però il Blade sicuramente ha un posto speciale nel suo cuore perché perché sempre per il discorso che facevamo prima del confronto tra generazioni è stato motivo di lo dico alla francese querelle perché non so dire una modalità un pochino più politically correct tra mio nonno e mio padre perché da un punto di vista tecnico fare quel tacco è impossibile perché i tacchi tendenzialmente sono fatti di ABS quindi materiali plastici per la stragrande maggioranza che poi vengono ricoperti laccati eccetera eccetera quindi l'anima è plastica quel tacco lì è talmente sottile che non può essere di plastica perché se no è un'opera ingegneristica cioè quando noi parliamo di calzatura dobbiamo metterci in testa che non parliamo di moda ma parliamo proprio di ingegneria calzaturiera perché ci sono tutta una serie di elementi che è come creare le fondamenta di una casa e quel tacco così sottile non avrebbe retto il peso e si sarebbe rotto quindi ci sono voluti sei mesi di prove di materiali diversi tra cui il titanio che ovviamente non era diciamo producibile eccetera eccetera e sono arrivati a realizzarlo con una spina di acciaio temperato all'interno di questa capsula diciamo di di materiale plastico che poi viene laccata verniciata eccetera eccetera quindi ha comunque una lavorazione ancora ad oggi artigianale ad esempio lo scopio della guerra e l'acciaio temperato era comunque un materiale difficile da reperire e quindi per noi è stato complicato anche trovare esatto anche trovare quelle che erano i sistemi di fornitura diretta e disegnare quel tacco per c'è come si è arrivati alla creazione di quel tacco mio padre era a Los Angeles che stava diciamo al tempo ero anch'io con lui era con Alessandra stavano guardando che è sua moglie stavano guardando tutte quelle che erano le scarpe in giro per Los Angeles e al tempo andavano molto di moda questi plateau doppi plateau comunque diciamo avere un un supporto importante sotto la pianta lui invece voleva disegnare qualcosa che era in controtendenza quindi lo stiletto perfetto che avresti riconosciuto anche senza guardare diciamo l'etichetta qualcosa che Helmut Newton avrebbe potuto scattare quindi con quell'immagine così femminile di empowerment di forza proprio intrinseca al design ed è nato da quel concetto lì mio padre comunque ha sempre sperimentato con i materiali perché la gomma come diciamo non nasce come materiale legato al lusso oggi l'abbiamo sdoganata con le sneaker però in un mondo in un segmento di calzatura donna lusso non era non era un abbinamento che diciamo potevi intraprendere e lo stesso appunto è nato con il blade il metallo per lui aveva sempre questa connotazione ultra interessante anche perché aveva già sviluppato nei fin anni 2000 questi tacchi ispirati tacchi calcio mi ricordo i quadri ti ha fatto vedere anche la chiave inglese con cui tu potevi staccare era una chiavetta per gli ascoltatori che era molto simile a quelle che i calciatori precedentemente utilizzavano per svitare i tacchetti e dare proprio il cambio ai tacchetti però messe su una scarpa col tacco era più che singolare cioè tu dici no non è possibile e invece tutte le cuciture ricordavano infatti la forma esagonale dei palloni sì sì da loro sono pieni di quadri ed è bellissimo quello ha dato cioè secondo te è il blade che vi ha fatto arrivare all'Irlande pubblico no non direi questo perché comunque devo dirti la verità tanto del nostro marchio lo fa anche la conoscenza è come se fosse un gioiello di famiglia che viene tramandato di generazione in generazione è un passaggio rituale quello di aprire l'armadio della mamma e provarsi le scarpe tendenzialmente e tant'è vero che per me le scarpe io dico sempre sono un po' come le Madeleine per Proust cioè hanno quella capacità evocativa di ricordarti quel momento esatto per cui le hai scelte con chi le hai scelte il momento in cui le hai indossate perché eccetera e quindi sicuramente gran parte del nostro pubblico conosceva le nostre scarpe proprio per un passaggio generazionale che ha quel valore di affettività sicuramente ci hanno dato la possibilità di essere molto riconoscibili sul red carpet e questo ha dato una visibilità internazionale anche in un momento storico dove l'immagine fa la differenza mentre in precedenza non c'era quello sviluppo diciamo così capillare della forza dell'immagine diciamo dell'immagine in sé oggi penso anche Ale cioè nel senso uno vede quella scarpa lì tu dici è quella è Cassadè sì però c'è anche da dire che avere una visione di creare un tacco differente dalla massa perché tu devi pensare una cosa che magari loro avevano già un fatturato quindi tu saranno in controtendenza quando vai in controtendenza è pericoloso può andare anche male allora è proprio questo il fatto essendo shoe specialist noi infatti all'interno delle collezioni abbiamo la possibilità e il dovere di indagare tutti quelli che sono i possibili i possibili end uses quindi le categorie merceologiche e tutto quello che ci va dietro quando è nato il blade contestualmente è nato una sneaker un fondo sneaker con una zippa interna risvoltata che quindi ti dava l'effetto la praticità di una sneaker ma poteva essere portata folded or unfolded quindi con un effetto un pochino più slouchy quando è intera e al ginocchio risvoltata invece che aveva diciamo una praticità e un comfort molto diverso ecco è andata molto? è ancora nelle nostre collezioni cioè all'interno della proposta stilistica c'è sempre un bilanciamento tra quelle che sono le tendenze i nostri core lo sviluppo e l'aggiornamento di quelle che sono le nostre forme perché dà comunque un senso di interpretazione del marchio che non ha la forza del magari marchio lifestyle che ti fa vedere a 360 gradi quale può essere la tua interpretazione dalla spiaggia alla casa a qualsiasi altro tipo di attività mentre sulla calzatura indestiga tutte quelle che sono i mood di ogni donna perché non necessariamente una donna è solo un cluster specifico ma può spaziare io stessa oggi più che mai assolutamente mio marito che dice io sulla base delle scarpe che metti la mattina capisco che aria tira e se devo chiedere o meno qualcosa questa è una lettura interessante è una lettura interessante ma visto che ci hai parlato di tutti questi processi sicuramente avendo anche tanti anni alle spalle di azienda avrete un archivio molto importante andate a scovare nell'archivio quello che possono essere alcune collezioni future o l'archivio neanche lo guardate assolutamente c'è la forza noi guarda prima che mancasse Franca Sozzani siamo andati a fare un appuntamento con lei abbiamo portato il nostro libro del cinquantesimo e sfogliando lei disse al mio padre signor Casadello sa che insomma brand che hanno questa storicità ce ne sono pochi perché noi siamo abituati con mio nonno che diceva sempre quando usciva il campionario sì vabbè ma questa è la roba veccia io voglio vedere quella nuova quindi siamo abituati storicamente a lasciare indietro quello che è stato il passato per ripresentare sempre qualcosa di nuovo la ricerca del forsennato della novità invece no abbiamo riscoperto quello è stato un po' un turning point dove è vero che tu ti rendi conto di quello che hai in casa ma noi ad oggi passiamo tanto tempo in quello che è l'archivio l'investigazione di determinate lavorazioni ci sono delle complessità molto diverse adesso rispetto a magari 40-50 anni fa per cui determinate lavorazioni non possono più essere fatte al tempo stesso però abbiamo una tecnologia che ci permette magari di sperimentare cose nuove la tecnologia è ormai è tutto mi piacerebbe sempre sapere se dopo tanto tempo oggi è possibile inventarsi ancora qualcosa quello sempre anche perché torno a ripetere vero viico i corsi ricorsi storici però il twist della modernità è proprio quello il blazer io dico sempre faccio un esempio la t-shirt il blazer non ti veste bene qual è il danno che ti può fare? beh no ho capito dove vuoi andare a parare certo tecnicamente però devi trovare delle soluzioni differenti perché allora la calzatura viene fatta a mano cioè ci sono tanti passaggi e ogni operatore ha il suo effetto diretto sulla calzatura però c'è un motivo per cui determinate calzature appena tu le indossi sono assolutamente connotanti la giacca degli anni è tanta ecco la calzatura ha quella capacità evocativa specifica per cui dopo un tot di anni deve essere comunque rimodernata ritoccata perché per quanto sia fatta bene la puoi sempre portare per carità il nostro blade è un esempio però io ti parlo di sul lungo periodo cioè non possono passare 50 anni e quella calzatura continuare ad essere up to speed con quelle che sono magari delle mode può ritornare il concetto di base ma deve essere investigato con con altri anche altri materiali altre strutture altre forme ok prima di entrare nell'azienda dove ormai sei general manager ci sono stati diversi passaggi in altre aziende ma vuoi raccontarci un po' questi passaggi e anche magari come il tuo passato di atleta può aver influito nella donna che è Arianna oggi allora ci sono due aspetti partiamo dagli esordi diciamo che la mia parte sportiva è stata spinta dalla mia famiglia per una questione tecnica avevo l'argento vivo addosso non sapevano come spegnermi mi hanno messo a fare qualsiasi tipo di sport per disperazione sfoga lì e buona notte esatto io passavo i miei pomeriggi al centro sportivo cioè facevo danza nuoto tennis a un certo punto anche calcio con somma disperazione di mia madre e quindi non sapevano come spegnermi e a un certo punto hanno detto va bene fai sport a otto anni ho fatto questa gara di nuoto dove io ero convinta di essere arrivata sesta perché premiavano fino al sesto in realtà io ero nella sesta corsia con mia madre che mi ha detto va bene Arianna hai fatto la tua gara adesso andiamo a casa ci sono un miliardo di bambini no mamma io devo essere premiata aspetta va bene ma se è arrivata a sesta te la daranno sta medaglia dai magari a qualcuno fa meglio morale della favola mi impunto le dico sì sì rimani rimaniamo chiamano il sesto posto non sono io dramma dramma le hanno chiamati tutti sono arrivata prima ah perché partivano dal basso sesto quinto quarto arrivata prima benissimo a quel punto cosa succede mi approcciano direttamente dall'agonismo mi dicono se voglio entrare con loro in squadra io felicissima mia madre che si era già prefigurata no danza classica e pattinaggio con me che non parte delle mamme che comunque vogliono no vorrebbe per lei è stato un trauma il fatto che io avessi scelto il nuoto morale della favola c'è di peggio no va benissimo poteva finire appunto a fare calcio cioè quindi alla fine è andata bene così e per me era proprio una questione di vita cioè io rinunciavo a tantissimi momenti mio padre comunque non c'era mai quindi i momenti delle vacanze erano quelli dove noi potevamo partecipare ad attività tutte quante insieme in famiglia io comunque essendo piccolina rinunciavo perché erano in periodo di carico dove magari dovevamo fare più attività sportive eccetera eccetera non avendo la scuola per me era più semplice quindi diciamo che il turning point per me sono stati 13 anni dove io mi sono qualificata ai nazionali con tre gare individuali e due staffette pronti via cioè passaggio di categoria subito mi qualifico quindi benissimo felicissima sono arrivata ai nazionali con mio padre che si è preso una settimana per accompagnarmi e ho fatto schifo in tutte le gare non ne ho centrata una della pressione tensione emotività cioè io sono arrivata alla fine da mio padre che piangevo e gli dicevo ma io non posso credere che tu hai preso cinque giorni dal tuo lavoro per vedere questo scempio perché faccio meglio in allenamento e lui mi disse una cosa che per me è stata centrale proprio nel nel mio sviluppo mi ha detto io non ho mai fatto un campionato nazionale per me già solo essere qui è motivo di orgoglio dai valore a te stessa dai valore al tuo sacrificio dai valore a quello che fai quotidianamente perché poi fa la differenza a quell'età tu vedevi un futuro nel nuoto oppure essendo figlia di e nipote di vedevi già invece il tuo cammino nell'azienda hai toccato un tasto sensibilissimo sensibilissimo cosa sognavi più che altro no per me è ovvio il momento in cui tu dedichi tutta la giornata a quello cioè la tua vita ruota intorno a quello quindi io volevo fare la nuotatrice anche perché se no non mi sarei sottoposta a tutta una serie di privazioni per me era un obiettivo molto chiaro però venendo da una piccola città dove comunque vedevano appunto questo mio percorso segnato e quant'altro il mio sacrificio veniva visto come un sacrificio inferiore rispetto a quello degli altri perché tanto avevo un'altra carriera e avrei avuto comunque un piano B cosa che invece per me era al contrario cioè io per venire agli allenamenti rinuncio alla vacanza a Dubai di qua di là di su di giù con piacere perché comunque quello per me è la priorità ma anche il sacrificio della mia famiglia che appunto nei momenti dove c'era mio padre io non c'ero ed ero via però Ari questo lo sai ora è chiaro che le amichette o gli amichetti dicono eh vabbè tanto mal che vada cade in piedi è chiaro è chiaro però non cade neanche si flette no male che va cambia strada neanche cade cioè è chiaro no ma io questo lo capisco però è quello il fatto di cui sono grata proprio di aver avuto una famiglia alle spalle che mi ha aiutato mio padre nello specifico infatti perché diciamo le due cose che io prendo dal nuoto sono proprio questa l'abnegazione la determinazione la costanza la perseveranza di uno sport individuale dove io che poi sono una chiacchierona riuscivo a chiacchierare anche nei cinque secondi di riposo che mia allenatore diceva basta cioè riprendi fiato e dall'altra parte il discorso del team perché c'è stato un momento bellissimo quando eravamo appunto sempre alle medie dove abbiamo fatto questa staffetta qualificate come riserva entriamo a fare le finali mio padre scherzando ci disse se arrivate sul podio neanche prima sul podio perché era impensabile e regionali vi porto a Disneyland Paris morale della favola abbiamo fatto una gara impensabile e mio padre era in showroom che stava lavorando si ricorda è stata telefonata con gli ultrasuoni perché quattro ragazzine di 12 è stato veramente incredibile effettivamente poi ci ha portato ha mantenuto assolutamente terze ma noi noi esultavamo talmente tanto che gli altri che avevano vinto non capivano perché sembrava che avessimo vinto il mondiale perché Disneyland è un mondiale hai studiato a Bologna l'università di Bologna ci chiedevamo anche con Frank come mai sei rimasta lì e magari non sei andata negli Stati Uniti o hai seguito un'altra stra o hai studiato da un'altra parte per me è stata una scelta personale nel senso che dopo tanti anni dove comunque anche al liceo avevo la possibilità di girare con mio padre eccetera era il momento in cui mio padre si stava fermando di più e io volevo essere più vicino alla mia famiglia ok e nel frattempo non nego anche una scelta legata a quello che ora è mio marito perché ci eravamo conosciuti da un anno e io lo so che non è la scelta uno che dice ho fatto solo questa scelta per no erano un insieme di fattori prima di tutto non volevo allontanarmi troppo dalla mia famiglia non entra solo il discorso diciamo della persona che avevo di fianco col seno del poi sicuramente se fosse andata via oggi probabilmente non saremmo insieme poi chissà le strade sono infinite però per me era prevalentemente legato ad una questione familiare nella mia testa ho sempre detto faccio l'università e poi vado via ok che è un po' quello che più o meno molti fanno no? sì e infatti prima di entrare in azienda a me mio padre mi aveva avvertito mi ha detto attenta se vuoi entrare in azienda ricordati che una volta che sei dentro vieni risucchiata io no ma io voglio solo portare avanti questo progetto dell'e-commerce perché mi sta qui che noi non abbiamo l'e-commerce e io sono entrata così dicendo faccio questo progetto e poi avevo già in mente di andare avevo indagato di corsa alla San Martin piuttosto che avevo degli amici però quando si fa così il risultato è sempre quello no tranquillo esatto fidati ma poi entro solo con l'e-commerce capito? non è che dici entro con un disegno una scarpa una capsule sto 5 minuti e vado via alle 5 di mattina sei lì oh metti un altro disco esatto ultimo entro con l'e-commerce lo so però io non avevo neanche ancora finito l'università e che mi ero a mio padre avevo detto ma può essere che ancora è il sito vetrina no basta e mi ha detto sai cosa c'è? fattelo mio padre è stato il primo a sostenermi nel magari nel suo modo di non capire determinate dinamiche ma teniamo presente che mio padre è la persona che ogni giorno mette in discussione il suo lavoro perché non è che quello che hai fatto la stagione prima va bene per la stagione dopo quindi questo tipo di frame mentale mi ha molto aiutato nel nel condividere con lui quelli che erano le mie visioni e i miei obiettivi e partiamo da un presupposto non c'erano pressioni all'inizio perché tutti si aspettavano di fare zero perché non c'era case history no esatto e alla fine del primo anno mio nonno mi ha fatto risiedere di nuovo in quello stesso ufficio mi ha detto ascolta fammi capire un po' come funziona questo e-commerce e nel tuo percorso c'è qualcuno tu giornalmente ti ispira a qualcuno se dovessi trovare un punto di riferimento che domande sono chi è oggi però magari non è scontato certo non è solo Cesare cioè mio nonno e Cesare sono le due figure che sicuramente per me sono un po' le colonne d'Ercole no oltre le quali poi io mi devo mi devo spingere però dall'altro punto di vista la cosa bella del nostro lavoro è che impari da tutti tutti i giorni trovare una nuova soluzione commerciale di comunicazione o di prodotto o di produzione è proprio una forma mentis non puoi rimanere attaccato a qualcosa che hai fatto in precedenza devi sempre innovare e questo lo devi portare avanti su 360 gradi Ari secondo te è possibile coniugare la carriera e la genitorialità e come? mi stai parlando con una mamma che in questo momento ha la figlia con 40 di febbre a casa per cui no vabbè no scherzo a parte non l'avrei fatto se non avessi pensato che è fattibile per me ovviamente è un plus cioè avere mia figlia che l'attività montessoriane no del trovare i materiali diversi colori diversi viene in fabbrica e c'è mio padre che le tira fuori le mazzette le fa vedere tutti i materiali e poi giustamente Alessandra la moglie gli dice questi sono tutti rosa invece mio padre parte no questo è buganville no questo è malva no quindi non so che cosa verrà fuori però devo dire la verità ho la fortuna di avere un compagno che è la mia roccia e quindi insieme riusciamo a far funzionare tutto ci vuole tanta organizzazione lavora con voi ok è responsabile di produzione ok aia esatto ha scelto un ruolo facilissimo bocca al lupo no però devo dire anche lì è un po' il concetto di è nato prima l'uovo la gallina non c'è una risposta giusta io parto dal presupposto che cerco di fare del mio meglio e poi si vedrà cioè non posso pensarmi solo madre e non posso pensarmi solo manager quindi a quel punto diventi un ibrido e cerchi di raggiungere con me il famoso chichain esatto bravissimo siamo preparati moltissimo guarda quindi pensi in un futuro della bimba in azienda come è stato fatto con me nel senso che a me non è stato dato il diktat entra in azienda è stato un lento lure me in come si dice un po' come il flauto di pan no che ti ti hanno inebriato sì e poi piano ti ci hanno portato indirettamente non mi hanno portato è stata una condivisione di qualcosa cioè se tu sei appassionato di qualcosa ne parli cioè si vede nei tuoi occhi nei tuoi gesti nella tua nel nel come stai facendo tu esatto con naturalezza diciamo sì cioè fa parte della tua vita e quindi è l'area che respiri ed essere attorniato comunque da quest'area di passione di entusiasmo di gioia di vivere ha comunque avuto un fattore determinante nella scelta della mia carriera la positività attira positività mio caro quindi è normale fondamentalmente allora Ari abbiamo un pochettino parlato prima del Made in Italy che è molto molto importante secondo me per un brand come il vostro ritieni che sia ancora un valore inestimabile ed è un valore nevralgico oppure si può ovviare a questa cosa qui è fondamentale nel senso che la nostra storia si basa si fonda su una capacità artigianale di una determinata manifattura e ad oggi noi stiamo investendo sui giovani stiamo investendo sui ragazzi che hanno la mia età che adesso stanno prendendo posizioni diciamo di manager all'interno del comparto produttivo parlo perché parliamo sempre di responsabili all'interno del reparto di produzione e ci sono ragazzi che stanno cominciando con noi e questo mix insieme alle persone che hanno formato mio nonno è un mix fondamentale per tramandare non solo quello che è la capacità manifatturiera in sé ma quel powerfare di Casadei e siccome prima parlavamo e scherzavamo anche con Ale del fatto che tendenzialmente nel made in Italy poi entra anche tutto quel know-how di cui all'estero tanto si parla e che spesso gli italiani non si rendono conto di questo valore aggiunto e tendenzialmente uno che ha le prime armi che deve entrare in azienda pensa ok io nella vita voglio fare il manager perché nell'immaginario collettivo il manager è quello che fa una bella vita dimenticandosi che ci possono essere delle posizioni in delle aziende come la vostra dove magari ci sono delle persone che hanno un know-how artigianale quindi non manageriale che paradossalmente o non paradossalmente potrebbe avere degli stipendi più alti rispetto a quelli manageriali siccome l'abbiamo parlato prima se lo vuoi spiegare tu sarebbe ancora più bello no no ma certo cioè dal mio punto di vista è proprio un discorso di alla base di conoscenza nel senso che quando un ragazzo approccia l'università nove volte su dieci capita che il suo percorso non sia magari così chiaro nella sua testa perché magari si ritrova poi a fare qualcos'altro ma c'è proprio un tema che è quello se io non so dell'esistenza di queste figure non ci metto neanche la mia competenza la mia volontà la mia determinazione nel raggiungere quello scopo di lavoro quindi da un punto di vista proprio tecnico professionale ci vorrebbe la visibilità di quelle che sono queste figure cioè da noi ad esempio abbiamo ragazzi che sono responsabili che hanno la mia età all'interno dei comparti produttivi con cui parlare realisticamente del loro lavoro quotidiano c'è una persona che lavora con mio padre sui tacchi e l'altro giorno si sono confrontati perché gli ha detto mio padre gli ha detto se tu mi dici che questo tacco io non lo posso fare io lo tolgo dalla collezione tu hai la capacità di dirmi se una cosa la posso portare avanti oppure no e questa persona poi ci ha messo 300 volte più l'impegno per arrivare poi al risultato definitivo perché ti apre poi la mente no e il ruolo di responsabilità e creativo e artigianale si fonde all'interno di queste figure è chiaro che poi ogni ruolo ha le sue difficoltà però quello che dicevi prima anche il fatto del fattore economico non sarebbe da sottovalutare nella spiegazione di queste figure perché sono poche si fa fatica a trovarle e sicuramente sono meglio retribuite magari di posizione di entry level esatto questo punto lo toccavamo con un altro ospite l'altra volta sulla filiera che si fa fatica a trovare figure professionali che amino il lavoro quindi immagino la fatica che facciate a trovarle e inserirli in aziende eventualmente sono figure che sono cresciute con noi che stanno crescendo con noi e nel frattempo stiamo seminando per quelle che sono le generazioni future ma io volevo sapere volevo legarmi a un fattore al fattore community o meglio tra le aziende o anche competitor del vostro settore magari alcune anche tipo Sergio Rossi perché sappiamo che siete più o meno vicini di casa se così vogliamo dire si fa unione cioè si fa squadra oppure si tende magari a essere singoli a pensare al singolo come vivete questa relazione soprattutto in un territorio dove vi guardate dalla finestra esatto ci incontriamo spesso a livello personale sì ci incontriamo però non c'è diciamo un cartello di San Mauro da questo punto di vista sicuramente c'è sempre stata storicamente un guardare quello che fanno gli altri però poi ognuno fa storia a sé e racconta la propria la propria storia condividiamo quelle che sono le origini e poi quelle che sono i processi di sviluppo ogni azienda le cucce su se stessi come un abito di couture quindi non c'è c'è una sana rivalità se così possiamo dire sì guarda banalmente quando c'è stato ci sono occasioni diciamo che sono incisive per le famiglie poi ci siamo l'un per gli altri certo questo lusso di cui si parla oggi io penso che sia sdovanato abbiamo detto prima che dal 2010 era veramente tutta un'altra storia è facile vendere online ad oggi posso dire di sì c'è comunque la sinestesia di cui parlavo prima non arriva a 360 gradi quindi c'è ancora tanto da fare tanto lavoro da sviluppare perché il nostro è un prodotto che la scrivenza del camoscio la capacità diciamo di determinati materiali di cangiare con i riflessi della luce di trasmettere quella quel quid in più tante volte sotto il flash non hai quel percepito reale no e quello sicuramente è un valore che dobbiamo indagare meglio cioè come si riesce a ricreare proprio la famosa esperienza no di cui tanto si parla per legittimare quell'acquisto con quei soldi online è molto difficile a meno che non costruisci una poesia attorno la poesia la puoi costruire perché lo storytelling ad esempio delle nostre descrizioni è molto editoriale e poi sotto a tutta una parte di componentistica tecnica però quanti consumatori attivamente vanno a leggersi tutta la descrizione cioè ovviamente a livello passivo anche la persona che viene a fare il diciamo il walkthrough in boutique riceve delle informazioni cosa che invece se fai browsing su un e-commerce se è quello che Baricco chiamava i surfer rimani un po' in superficie non necessariamente vai a quel livello di profondità anche se devo dire che ci sono tanti clienti che da noi poi vanno in boutique e dicono questo modello perché il Blade è comunque famoso ma magari il modello di stagione ti dicono il colore ti dicono il materiale e tu gli dici bene abbiamo fatto un buon lavoro o magari ti dicono l'ho visto su qua sì quello sì però è questo però quello è qualcosa diciamo dove attivamente tu sei andato a ricercare l'informazione ma quando ti dicono il nome del modello il materiale il colore tutto nella scelta che bello quello è bellissimo è un raggiungimento cioè lì è una completezza totale d'animo sì perché comunque vuol dire che tu sei veramente interessato a quello che stai guardando e acquistando parlando di e-commerce quindi tu oggi come se vogliamo dire linea di business è più forte l'e-commerce o la vendita in store allora noi abbiamo comunque un modello di business che ha ovviamente la vendita digitale la vendita sui nostri canali diretti quindi due dos che è terzo con Londra Milano, Roma e Londra abbiamo poi una serie di corner e boutique sparsi in giro per il mondo e c'è il canale poi wholesale che per noi ha un peso importante avendo comunque noi una grande storicità ad oggi non posso dire che l'e-commerce ha completamente sostituito la vendita in boutique perché non è così sicuramente quello che noi vediamo è che nella vendita wholesale il canale digitale va di pari passo quindi c'è nel senso ti permette di creare anche una capillarizzazione dell'informazione che è un vantaggio impagabile Prima parlavi di NFT però no? Pensi che possa essere una nuova linea di business? La stiamo indagando la stiamo indagando perché come l'e-commerce all'inizio ha dei fattori molto interessanti però ancora ha determinate limitazioni Troppo prematuro Sì Per noi adesso è molto prematuro il concetto di sviluppo estensivo del business però come progetto è stato molto interessante Quindi lo teniamo lì pronto in focus e lo sviluppiamo No, lo stiamo continuando stiamo continuando comunque a fare ricerca anche da questo punto di vista come ti dicevo anche prima Stiamo arrivando alle domande raffiche che è il blocco che a me piace di più ma prima di questo è importante ti volevo chiedere una cosa il lusso non è soltanto prodotto chiaramente cioè il prodotto è la parte diciamo forse più importante però deve essere sicuramente deve riuscire a legittimare quella che è la value proposition di un'azienda e spostandoci verso una maggior sensibilità rispetto ai temi della sostenibilità e del benessere animale la domanda è si riesce a mantenere uno standard di prodotto cercando di andare incontro alla sostenibilità oppure la sostenibilità sul lusso e sulla tipologia di scarpe che fate voi è difficile Guarda questa è una domanda che mi hanno fatto al Polimoda a Firenze quando ho tenuto un corso abbiamo parlato delle brand attribution di Casa Dei e io volutamente non ho messo la sostenibilità perché il momento in cui una brand attribution vuol dire che viene diciamo legittimata anche dal consumatore finale come tale per noi oggi ricerca non si può parlare di punto di arrivo anche perché comunque come sinonimo di lusso e valore intrinseco c'è la durabilità una issue importante diciamo da questo punto di vista è proprio legata al concetto di durabilità su determinati materiali e quindi è un percorso non posso dirti che ad oggi siamo arrivati ad un livello complessivo raffinato anche perché c'è di fare greenwashing e dire che una scarpa di raso è un materiale vegan c'è lascia un po' il tempo che trova e anzi siamo molto oltre nella conversazione perché facciamo delle stuove vegetali che vengono intrecciate e mischiate con quelle che sono delle nostre tomaie e quindi c'è una commistione sono quasi al pari di quelle naturali sì sì ma mio padre in ultima stagione ha presentato dei camosci eco che hanno l'effetto quasi della scrivenza di quello reale quindi anche al tatto sono molto interessanti e Alessandra che è la moglie di mio padre tantissima parte del suo lavoro la spende proprio sulla ricerca di prodotti sostenibili però non me la sento di dire che siamo arrivati ad un concetto di sostenibilità tale per cui può essere uno dei valori riconosciuti per noi no certo certo però la carreggiata è aperta e si sta già correndo assolutamente molto più avanti dell'nft me lo immagino me lo immagino siamo nell'ultimo blocco madonna quando lo dici così non lo so un brivido mi viene io non finirò mai di ringraziare la nostra autrice a cui ormai voglio veramente un gran bene perché ci ha inserito queste domande a raffica lei non mi guarda ma un giorno mi guarderà guarda il suo sguardo è stupendo allora Ari sono delle domande alle quali devi rispondere velocemente poi se le vuoi argomentare bene se non sono in azienda sono in viaggio se non avessi scelto casa dai oggi cosa faresti e-commerce grande 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 Roma Milano o San Mauro Pascoli sono una pendolare lunga tratta non puoi farmi questa domanda eh sì San Mauro Pascoli scusami Ale tra l'altro sì perché io sono nata a Roma ah ok vabbè però hai risposto a Mauro Pascoli io San Mauro Pascoli lo conosco da quando sono piccolo perché io sono nato ho vissuto per i 15 anni della mia vita a San Mauro Marchesato che è un paesino in Calabria e quindi io conosco San Mauro Pascoli perché avevo le maestre che mi dicevano noi c'è un altro paesino che si chiama San Mauro Pascoli quindi loro correlavano il San Mauro poi alla letteratura e invece non era San Mauro Pascoli è certo è certo San Mauro Pascoli ha una storia per quel motivo lì scusate vai Ale le scarpe o la scarpa in questo caso alle quali sei più legata ok questa la devo argomentare però perché sono quattro ma tu devi argomentare ok ok allora sono sono quattro le milestone della mia vita come dicevo prima le mie medlen la prima scarpa che ho rubato dall'armada di mia madre e che ancora adesso è missing e non so dov'è che è un sandalo con una punta quadrata e un tacco di bambù 8 centimetri la scarpa dei miei 18 anni che è una stampa un sandalo anche qui sempre con punta quadrata ma un tacco sdrocchettato con una stella marina di cui io mi ero innamorata perché mi ero innamorata avevo visto da mio padre attraverso Oriana appunto che era la nostra maestra ricamatrice questo questo embroidery che era pazzesca mi piaceva da morire faceva proprio effetto estate abbinato a questo abito verde per i miei 18 anni e la scarpa della mia laurea perché la leggo al mio diciamo il momento in cui ho uscita poi c'è stato un gap al mio primo viaggio ufficiale che è stato un fallimento nel senso che tutte le mie prime volte sono state un fallimento praticamente no si possono migliorare quindi esatto cioè la strada è discesa il problema è quando la prima volta poni la sticella molto in alto no ma allora parte l'e-commerce no però faccio per dire in questo caso specifico io avevo 19 anni dovevo andare a Parigi no dovevamo andare aspetta l'azienda doveva andare a Parigi e portare le scarpe ovviamente per il cinquantesimo che l'envolumbert avrebbe scattato per la mostra celebrativa e io sono e ovviamente nessuno poteva andare scarpe pronte all'ultimo secondo quindi chi vanno Arianna e Nicolò che poi è mio marito siamo partiti e io scherzando gli dissi ti immagini se arriva solo una delle due valigie e così e fu così quindi io parlando inglese mi sono ritrovata a Parigi non parlando una parola di francese piangendo con nessuno che mi aiutava disperata e ad un certo punto ho dovuto chiamare mio padre che era l'ultima cosa che volevo fare perché sapevo che mi avrebbe mangiato la faccia anche se non c'entravo nulla perché ovviamente in quelle situazioni tu hai lavorato erano dei ricami incredibili dovete vedere le foto perché sono perché non avevano caricato a Bologna sull'ultimo aereo della sera quindi l'hanno caricato sul primo della mattina e grazie a Dio sono poi arrivate sul set però per lì insomma non è stato semplicissimo e quelle stesse scarpe mio padre come regalo me le fece fare apposta per la mia laurea che era un paio di sandali con tutte delle catene come può essere il concetto dell'Olimpiade o del nostro C-chain dove ogni pietra Swarovski aveva un colore diverso ed era stato lui a decidere esattamente qual era la composizione di ogni singolo anello ci volevano due settimane per fare quel paio la star a cui sei più legata che avete vestito non si può dire aspetta chiudo con l'ultima chiudo con l'ultima che è la scarpa del mio matrimonio sono tutti momenti comunque importanti alla vita mi aspettavo questa chiusura perché io l'ho aperta e l'ho scoperta al giorno del mio matrimonio è stata disegnata da mio padre io non l'ho mai vista l'ho provata bendata l'ha montata mio nonno e l'ha ricamata questa appunto maestra ricamatrice che per me è come una nonna acquisita su questo pizzo francese senza fodra una cosa incredibile questa è molto bella la tua scarpa di 18 te la ricordi? no io sì sai dai come fai non ricordo sono dei dettagli non era meravigliosa forse era una sneakers no no io me la ricordo proprio anche il brand poi ti dico perché era un po' diciamo lo profile forte però la star a cui sei più legata che chiaramente che hai indossato a casa te mia figlia di Hollywood invece? se puoi dirlo poi tu mi dici no evitiamo no non ho una personalità particolare cioè anche perché poi è un po' tricky come domanda certo 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 faccio fatica a espormi su una ce ne sono state diverse ecco questo sicuramente da un punto di ecco no quello che ti posso dire non ce n'è una in particolare ma il fatto che ad esempio Sara Sampaio a Cannes è stata una cosa divertentissima perché mio marito abbiamo saputo della richiesta mio marito l'ha tirata fuori dalla produzione l'abbiamo consegnata a Milano e il compagno della persona insomma che faceva poi le nostre seguiva la nostra parte VIP gliel'ha consegnata personalmente per il red carpet di Cannes l'anno scorso? no questo è stato nel 2017 allora scusami ti giro la domanda così la star che non è può essere anche ora non più tra noi che avresti voluto vedere in casa dei beh se vuole ormai di mio padre dico Marilyn Monroe ok un vizio che non chiedetemi di togliere il vino in particolare c'è qualche etichetta? no bianco o rosso? partiamo dal fatto che voglio stare in Italia e ti parlo di Franciacorta ok top ma un general manager alla fine del gioco lavora meglio sui tacchi o sulle scarpe basse? dipende dal mood della giornata no devi rispondere e io li ho tutti però è vero perché così non scappa non scappa da qui non va via domani domani piuttosto vado io a Londra al posto suo sono sicuramente agli eventi sono sicuramente con i tacchi anche nella mia vita quotidiana indossi mai altri brand? no li ho provati li ho provati però sono molto picchi ma se dovessi prendere delle sneakers di Nike quindi cambiamo totalmente o di Adidas nove volte su dieci mi vengono le vesciche beh mi rispondo va bene così vuol dire che casa dei è casa dei no è vero c'è il tipo le Adidas nove volte su dieci è il momento in cui io se io ho le vesciche è sempre per quello sei abituata a una tipologia di scarpa e quindi ma adesso non voglio dilungarmi però ad esempio nel concetto della sposa quando una ragazza viene a provarsi una scarpa da sposa è stata tutto il giorno in giro con una tennis e dico non lo fare è giugno ti stai provando una scarpa con una pianta che è sformata è impossibile che ti sarà mai comoda una scarpa e non è neanche vera la tua taglia io purtroppo non posso immaginarlo però ci credo perché la mia compagna è così Ari grazie di cuore per il tempo che ci hai dedicato e buon viaggio domani grazie mi penserò ci vediamo al ritorno ciao Ari grazie mille grazie 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 grazie